Caos stamani in via Battisti all'angolo con via Rossetti dopo l'intervento dei vigili del fuoco che ieri sera hanno cinturato una statua pericolante parte di un gruppo che abbellisce uno dei palazzi storici della zona. In un primo momento infatti la polizia locale ha provveduto a chiudere due corsie di marcia in corrispondenza con l'incrocio semaforico il che sommato alla presenza in via Polonio di un altro intervento di edilizia ha creato ripercussioni non da poco sostanzialmente lungo il lato in salita dell'intera strada. A metà mattina la decisione di ridurre da 2 a 1 le carreggiate interdette ha alleviato il problema. L'intervento dei vigili del fuoco era iniziato ieri sera in seguito alla segnalazione che una statua sembrava in procinto di cadere. Già inottata quel tratto di via Battisti era stato transennato per ragioni di sicurezza. Non è un momento felice per alcuni manufatti che adornano gli edifici cittadini. Poche settimane fa in piazza Goldoni parte del balcone di un palazzo si era staccata precipitando sul marciapiede per fortuna senza causare vittime.